Siamo sempre stati abituati a concepire l'ambientalismo come piccoli gesti, spegnere la luce in una stanza che non frequentiamo, chiudere il rubinetto dell'acqua. Certo, sono importanti perché moltiplicati per milioni di persone danno il loro contributo, ma oggi il problema ambientale va aggredito là dove ci sono veramente i grandi sprechi e la casa è proprio uno di questi settori. Oltre il 30% delle emissioni di gas a effetto serra proviene dalle nostre case, che sono dei veri e propri colabrodo energetici costruiti in tempi nei quali l'interesse per la salvaguardia energetica era assolutamente trascurato. Oggi abbiamo la tecnologia per rendere le nostre case molto più efficienti, quindi consumare pochissimo, sprecare poco, e questo è un vantaggio anche per le bollette, soprattutto un vantaggio economico e ovviamente un vantaggio ambientale perché quando non sprechiamo energia non emettiamo CO2 fossile e altri composti tossici per la salute dal comignolo delle nostre case o delle centrali elettriche che spostano semplicemente le emissioni altrove. Quindi riqualificare le nostre case vuol dire prima di tutto studiare un minimo perché ci vogliono delle conoscenze tecnologiche sviluppate negli ultimi decenni, quindi affidarsi a dei professionisti preparati in grado di fare dei progetti che tra l'altro sono detraibili. Il costo del progettista è detraibile insieme a questa opportunità dell'eco bonus che in Italia è tra i migliori al mondo e che permette di scaricare fiscalmente in una decina d'anni tra il 50 e il 65% per i privati e fino al 75% per i condomini dei costi per la riqualificazione, quindi isolamento termico, dei muri, del tetto, i serramenti e l'installazione di nuovi dispositivi per il riscaldamento e il raffrescamento, in particolare le pompe di calore che sono dei dispositivi che vanno a elettricità ma utilizzano anche l'energia rinnovabile dell'aria o dell'acqua. E poi abbiamo tutti i controlli nelle nostre case, la cosiddetta domotica, il fatto che possiamo seguire dentro un appartamento quanto consumiamo, quanto produciamo magari con i pannelli solari sul nostro tetto.